è vero che è un dittatore quello che dicevo almeno durante la mia permanenza maranella della legge per tutti ma era lui il proprietario responsabile di nulla di sbagliato in questo atteggiamento sono convinto che avessi ragione qual è il segreto del successo di ferrari ferrari è un amore tipicamente italiano per la bellezza le sue macchine nascono proprio dal suo desiderio di perfezione sulla parte della sua vita della sua mentalità ricordo che in occasione di ogni nuovo modello la prima domanda che poneva i collaboratori era il bello quanta gara ha vinto sinceramente non lo so posso dire che paradossalmente ogni volta che scendevo in pista pensavo alla gara seguente e perciò non ho mai tenuto in conteggio preciso che cosa significa il nome di ferrari nel mondo ferrari è un simbolo dell'italia un uomo che è riuscito a raggiungere risultati strepitosi partendo da zero aprendo nuove prospettive per l'industria automobilistica in generale per la formula una in particolare che secondo lei è un campione un uomo con delle buone doti naturali dotato di spirito battagliero concentrato nel raggiungere un determinato obiettivo controllo Grazie a tutti.